in questo numero la seduta del 25 ottobre dibattito su Torino nuova economia il 25 ottobre il Consiglio regionale ha svolto su richiesta dell'opposizione una seduta speciale sulla situazione di Torino nuova economia dopo l'approvazione della delibera sul dimensionamento delle autonomie scolastiche e la comunicazione dell'assessore al bilancio Giovanna Quaglia sull'assestamento del bilancio regionale l'Assemblea ha approvato l'assegnazione in sede redigente alla terza commissione di quattro proposte di legge in materia di prelievo venatorio e due ordini del giorno presentati rispettivamente dai consiglieri Luigi Cursio Italia dei Valori e dell'Onora Artesio Federazione della Sinistra per le vittime degli incidenti sul lavoro